Fotino Academy protagonista alla 13esimo Memorial Alessandro Iodice di Casagiove. Nel casertano i ragazzi guidati dal maestro Emilio Fotino hanno visto primeggiare Antonio De Stefano, che ha conquistato l'oro battendo per 3-1 in finale il suo avversario, commosso il coach avlenese, che ha definito il suo allievo come un vero lupo. La manifestazione ha visto in oltre la partecipazione di ben 587 allievi provenienti in totale da 24 società e da 5 regioni diverse. Il successo di De Stefano sta a testimoniare la forza del team avlenese. Gli altri atleti irpini, 24 in totale, a scendere sul tatami, hanno strappato 20 medaglie, 8 ori, 6 argenti e 6 bronzi. E se non è un record, poco ci manca. Medaglie d'oro per Antonio De Stefano dunque, Giuseppe Testa, che a breve sarà protagonista anche in Croazia, Pasquale Rastiello, Giulia Silvestro, Nicola Manzione, Francesco Lofredo, Bianca Capone e Niccolò Branchi. Medaglia d'argento a Pierpaolo Bevilacqua, Assunta Scarano, Mario Annuzzi, Martina Matarazzo, Andrea Palmese ed Emanuele De Stefano. Terza piazza del podio per Domenico Mazza, Sara Campanella, Francesco Accomando, Antonella Pisano, Carmine Mariano e Daniel Genovese. Grandi traguardi dunque per la scuola di karate Fotino, che può vantare nel suo roster elementi di sicura affidabilità, sia per quanto riguarda la categoria maschile che, come abbiamo visto, quella femminile. Gli appuntamenti non sono finiti qua per la Fotino. Domenica 9 febbraio si va a Marano di Napoli per il 35esimo campionato regionale italiano Juniors, mentre nel weekend di San Valentino si partirà alla volta della Maremma. A Follonica appuntamento con l'Open di Toscana.